Un ciao a tutti dal vostro Dago e benvenuti ad una nuova puntata del Dago Sip. Oggi ospiti in studio, insieme a me c'è Vittorio Sgarbi, che esprimerà un suo parere spassionato sul nuovo contratto di governo firmato da Salvini e Di Maio. Eh? Mannaggia, non funziona mai, st'auricolare non funzionano mai, manco sta cuffia che me l'ho comprato. Vabbè Vittor, te cedo volentieri la parola. Ciao a tutti dal vostro Vittorio Sgarbi. Sono venuto in questa trasmissione, capitanata dal mio amico D'Agostino, col quale ho litigato in passato ma adesso siamo tornati amici, per parlare del nuovo governo, di questo contratto ignobile e vergognoso fatto da Di Maio e Salvini. Un contratto di governo che è veramente una cagata pazzesca, come direbbe anche Paolo Villaggio, che supera, supera di gran lunga quel gutalax che Di Maio rappresenta, quella merda secca, quella scoreggia fritta, quel manichino, quel insetto Di Maio, appunto. Ho letto il capitolo che riguarda la cultura, ed è di un'ignoranza imperdonabile. Queste persone dovrebbero vergognarsi. Torni da scuola! Leggano Foscolo! Da Santis! Dononi è il tratto da aggiungere. Un ciao dal vostro Vittorio Sgarbi. Grazie a tutti!